Ecco, chi inizia? Presidente, la verità è che non c'eravamo più guardi a commentare un momento scortito e quindi forse l'impegno scorto è più difficile come commento, però credo che per 85 minuti siamo stati pressoché perfetti, poi credo che abbiamo fatto una buona gara, fino all'87 credo che non c'è nulla da dire, abbiamo giocato un primo tempo buono, un ottimo secondo tempo e poi è successo quello che è successo, credo che si sia infortunato Bellusci e basta, è cambiato un po' l'assetto e credo che poi si è deciso un po' la gara, quindi registriamo questa sconfitta, secondo me in meritate però il calcio è questo, bisogna accettare il risultato del campo e noi lo accettiamo. Sulle dinamiche tecniche ne parleremo con il tempo, il fatto che invece riguarda l'obiettivo che lei come Presidente si era dato come squadra che in un certo punto alla squadra riuscita a trasmettere, ma io credo che, ripeto, è difficile commentare questo risultato perché credo la partita noi l'abbiamo fatta, la squadra non ha mollato una virgola, abbiamo giocato credo bene perché volevamo vincerla questa gara e ci stavamo riuscendo credo con pieno merito, io ricordo soltanto il rigore del Lecce, l'unicazione in cui hanno tirato in porta, non ricordo altre, poi loro hanno avuto, dopo qualche altra, anche noi potevamo raddoppiare nel primo tempo, non ho nulla da, sulla prestazione c'è poco da dire, la squadra voleva vincere questa gara, ce l'ha messa tutta, poi ti ripeto, l'obiettivo è chiaro che si allontana, avevamo la possibilità di poter arrivare al sesto posto, ora credo che il sesto posto si sia abbastanza allontanato, poi a 48 mi pare, matematicamente ci possiamo ancora arrivare, però ripeto, perdendo queste gare quando ormai mancano sei partite alla fine comincia a essere complicato, noi ce la giocheremo tutta, come abbiamo fatto oggi, per lavorare il campionato, per noi stessi, ma ti ripeto da questo punto di vista, se la squadra non avessi fatto la prestazione mi sarei arrabbiato, non posso dire nulla, assolutamente, ai ragazzi non posso assolutamente dire nulla, resta rammarico per la sconfitta però, nulla da dire. Presidente, al di là della prestazione come diceva lei, che a me è stata sicuramente positiva a meno da 85 minuti di gara, secondo lei considerate le circostanze in cui è maturata questa sconfitta, che tipo di ripercussioni ci potrebbero essere dal punto di vista psicologico, insomma sulla squadra, anche in virtù dei risultati che sono maturati sugli altri campi, in particolare Roma e Inter, insomma che noi... Non lo so, spero nulla, perché ripeto, non dobbiamo assolutamente demoralizzarci, può succedere, nel calcio ci può stare, e oggi c'è successo, quindi bisogna ripartire, ripeto, non è mancato il gioco, quindi su quello dobbiamo continuare. Mi pare che la squadra sta bene dal punto di vista fisico, tutto, quindi non dobbiamo fasciarci la destra, è stato un incidente di percorso, ripartiamo da lunedì prossimo a Trieste col Cagliari a fare le nostre gare, così l'abbiamo fatto finora, e cercare di fare il risultato. Non credo che ci possano essere ripercussioni di nessuna natura, perché ti dico che la squadra è stata in campo bene e non meritavo assolutamente di perdere oggi. Il mio commento è questo. signor Presidente, ma c'è anche un po' di rabbia per quello che è successo alla fine dell'ultimo solidarizzo, che alla fine possiamo dire è la neve di un risultato? Sei, allora, se devo dire così, chiaro, poi, con il senno del poi, è chiaro che là c'è un errore da parte del portiere, però sei in campo, non è istintivo, è un gesto che ti viene istintivo, non lo devi fare, chiaramente perché davanti all'arbitro che ti ha appena appena ammonito, batti le mani, l'arbitro non può non espellerlo, penso che la decisione del signor De Marco sia stata assolutamente ineccepibile, nessun arbitro non può espellere di un giocatore che ti batte le mani in faccia dopo che tu l'hai ammonito. Però, ripeto, io non mi sento di condannare il ragazzo perché l'episodio è chiaro che poi alla fine ti porta alla sconfitta, però voglio dire, è un gesto istintivo, naturalmente il primo a essere sicuramente rammaricato di questa cosa è proprio Carizzo, quindi è un portiere che sta facendo molto bene, qualche volta credo che ci ha anche dato una mano a fare risultati importanti, chiaramente è un gesto che non c'entra nulla con l'aspetto tecnico di una partita, però può succedere, è successo, non è la prima volta che accade, gli servirà per il futuro perché queste cose non gli debbono più capitare. in futuro credo che, come dicevo prima, gli servirà moltissimo perché non è sicuramente un gesto bello quello che ha fatto. C'è un po' che fa l'interno, e qui mi immagino che per il caso specifico, ma che era una sua muta, ma in tante cose, ma insomma dispone di, per quanto è casuale, insomma, chiedono nessuna seconda restituzione di Carizzo. C'è una scuola che in questo momento, l'Erma si è inutile, ha un pizzico di nevi scoperti, forse mi sente pressata dal fatto che doveva raggiungere questo obiettivo, oppure no? E comunque, una multa della proposta nel momento… Ma quello è ovvio, ci sono dei regolamenti, ma quello della multa mi sembra la cosa più scondata, penso che non è quello il problema. Il discorso di Spolli con quello di Carizzo sono due cose completamente diverse. Là, diciamo, è stata una dinamica che il ragazzo è scivolato, si è alzato e è stata una dinamica, tutto sommato, se vogliamo, di gioco. Questo non c'entra assolutamente nulla. È una cosa che è capitata, evidentemente, diciamo, si è nervosito molto perché ha preso il pareggio, il gol dell'1-1 e di conseguenza si teneva a vincere e di conseguenza ha fatto un gesto che non si deve fare tutto qua. Anche perché poi, tra l'altro, noi avevamo fatto già le tre sostituzioni, quindi non è potuto entrare il secondo portiere, quindi diciamo, al danno, si è aggiunta la beffa perché, ripeto, credo che questa partita difficilmente l'avremmo voluta perdere, se non in questo modo. Dico, può essere che in questo momento la scoperta comunque la passione è un obiettivo importante? Sì, le pressioni servono sempre. Allora, prima dicevamo, dobbiamo cercare di stare a tendere, cercare di non perdere quello che abbiamo fatto finora, quindi giochiamo le partite nello stesso modo come giocavamo prima, cioè, è chiaro, quando c'è l'obiettivo un po' di pressione ce l'hai addosso, però credo che sia un fattore positivo, non un fattore negativo. Non me la sento di dire che le espulsioni sono dovute alla pressione per chi deve raggiungere un obiettivo, assolutamente. Allora le altre squadre cosa dovrebbero fare. È capitato, può succedere. Alla luce di quella, la situazione attuale, in questo momento il Presidente, i miei denti dice probabilmente l'obiettivo Europa è sfumato, non quello dei 50 punti vaccinati, cambia qualcosa anche nella costruzione della storia del futuro? Noi sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare, voi sapete, il Catania deve prima mantenere sempre la Serie A e poi pensare ad arrambicarsi sempre di più in classifica, ma il nostro primo obiettivo è rimanere sempre la permanenza nella categoria. Non modifica nulla, né in un senso né nell'altro. Chiedetelo al tecnico, io non sono un allenatore, ho visto che evidentemente poi chiederete all'allenatore per quale motivo è successo questo. Ricordiamoci che io ricordo soltanto che durante gli 85 minuti loro una volta sola erano tirati in porta il calcio di rigore, per carità, però mai mi ricordo un tiro in porta del legge, in tutti gli 85 minuti. Escusa il discorso del rigore che è stata un'azione che loro hanno fatto, insomma, che ci può essere successo. Poi chiedete all'allenatore, io non commento fattori e fatti tecnici. Grazie, buona serata.